Amici del TGNORBAPRIMA, benvenuti a una nuova puntata delle ricette delle amiche, siamo sempre in compagnia di Mara, però oggi non siamo a casa di Mara, bensì siamo ospiti di una masseria molto ma molto bella, la masseria Cimino. E infatti Daniele abbiamo pensato, considerata questa fantastica cornice, di spostarci così per le nostre ricette estive in una sede che possa meglio accogliere le nostre preparazioni. E quindi qui da Savelletri oggi vi proponiamo cosa? Dei biscottini alla marmellata e noci. Gli ingredienti per realizzare questi biscotti sono 200 g di farina, 50 g di zucchero semolato e 50 g di zucchero di canna, 90 g di burro, 2 cucchiai di panna fresca, 2 torli d'uovo, un pizzico di lievito per dolci e per farcire noci, tritate e marmellata rigorosamente fatta in casa, nel nostro caso di ciliegie. E allora andiamo subito a vedere la preparazione. Allora Mara, come si prepara questa ricetta? Innanzitutto prepariamo la solita fontana, quindi in questo caso con la farina, lo zucchero, predisponiamo i nostri tocchetti di burro che deve essere ben freddo, di frigorifero perché per la frolla serve il burro freddo. Sarà davvero gustosa. Buonissimi. Aggiungiamo anche il lievito, andiamo al centro a mettere i torli d'uovo. Sono una brava collaboratricissima, soprattutto a girare le polpette. Allora abbiamo appena tolto la pasta dal frigo e adesso che cosa succede? Adesso succede che dobbiamo stenderla e poi ti faccio vedere fare un bel rettangolo e poi farcire. Devi seguire esattamente così come faccio io. No, no, ti aiuto! Brava, perché sennò non ti riescono. Daniela, io ho steso la pasta, mi aiuti a versare un po' di noci nella marmellata? Ma certo! Quindi Daniela, abbiamo mescolato le noci e la marmellata, le devi distribuire così, come sto facendo io. È importante questo perché sennò non vengono dei biscottini arrotolati con la marmellata, viene la crostata. Allora Mara, il nostro dolce è cotto? Hai visto come viene bene? Adesso lo dobbiamo solo tagliare. Anche qui ti mostro come fare per tagliare questi biscotti. Mara, sono venute a trovarci due amiche, Anna Maria e Marina. Perfetto, allora possiamo fare testare i nostri biscottini. Allora li assaggiamo? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cosa è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! E allora con questi biscottini vi lasciamo da Mara e da Daniela. Arrivederci alla prossima ricetta. Ciao! Arrivederci! Sì! No! Bovino della Gallura! No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?